È stata scoperta nell'ultima domenica di novembre, come da tradizione, l'effigie della Madonna del Sole, custodita nel Duomo di Pietrasanta e da sempre venerata dalla comunità pietrasantina. La scopertura è venuta al termine della messa di sabato pomeriggio e per tutta la domenica il dipinto è stato a disposizione dei fedeli che hanno voluto renderle omaggio. È solo una tradizione oppure in questo momento ce n'è più bisogno? Ce n'è tanto bisogno. Noi tutte le volte che viene aperta veniamo sempre. Ci ha protetto e aiutato in momenti difficili. Speriamo ci protegga anche ora. Ora c'è bisogno, però è una tradizione. È la mamma della Versiglia. Entrambe le cose, io credo. La tradizione è la tradizione ormai di tantissimi anni, dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti. Tutta Pietrasanta ricorda in tutti i momenti. E quest'anno sì, sicuramente la sentiamo di più, diciamo. È così. La Madonna era stata scoperta in via eccezionale anche il 15 marzo scorso, durante la prima fase della pandemia, quando il preposto don Stefano Datri aveva voluto concedere l'opportunità ai fedeli di chiederne l'intercessione, così come avvenne nel 44, anno a cui risale la tradizione della scopertura. Quando, in tempo di guerra, le truppe minacciavano la nostra zona e bombardarono Corvaia, Vallecchia, Ripa, e il parroco tutta la notte vegliò con pochi fedeli per chiedere alla Vergine di salvare la città. E al mattino, sì, i danni della guerra, si sa, ma furono di gran lunga inferiori a tutto quello che accadde nella zona circostante Pietrasanta.